Ciao a tutti, questo video per inaugurare una nuova rubrica, quella delle tipologie maschili, tratti caratteriali che contraddistinguono alcuni maschi e che possono essere utili, diciamo, alle donne per sapere con chi hanno a che fare quando interagiscono con un uomo. Questo canale presenta come la maggior parte degli iscritti a questo canale sono donne, per cui, beh, questo è un omaggio, diciamo, al mondo femminile, però poi farò comunque anche una rubrica omologa, diciamo, sulle tipologie femminili, questo per gli uomini, però da cavalieri diamo la precedenza alle donne. Ci saranno diversi video, una previsione, credo, una 30-40 video su questo tema. Usciranno, diciamo, scaglionati, adesso non so ancora esattamente con quale frequenza, però, diciamo, in modo tale da coprire la più vasta gamma di possibilità, in modo tale che potrete identificare il tipo col quale vi relazionate o la persona che vi piace. Bene, quindi, questa nuova rubrica partirà a breve con la prima tipologia. Per questo video è tutto, ti ricordo che giovedì 8 giugno terrò a Savona un seminario su come eliminare la paura dell'abbandono e sedurre. Giovedì 8 giugno, ore 20, a Savona, prezzo al Pepita, via del Molo 12, zona della Darsena. Comunque, il riferimento è il 333 15 11 703. Metto le info nel box, ti ricordo inoltre di iscriverti al canale, perché potrai vincere dei corsi gratuiti con me. Ciao!